Buonasera dal telegiornale della Calabria. In apertura ancora la vicenda delle presunte molestie al liceo di Castrolibero. Il ministro Bianchi ha annunciato che invierà altri ispettori da Roma e ha detto con forza se fosse vero ciò che raccontano gli studenti sarebbe inaccettabile. I ragazzi intanto continuano l'occupazione del Valentini Majorana e chiedono un faccia a faccia con la preside. Il caso diventa anche oggetto di un'interrogazione parlamentare. Ci dice di più Maria Teresa Santaguida. La semplice richiesta che abbiamo fatto alla preside è di scendere tra noi studenti e dire a tutti al microfono che non ci saranno ripercussioni per ogni persona che si fa avanti perché sembrerà assurdo ma molte ragazze hanno paura di ripercussioni nell'ambito scolastico. Penso che sia necessario da parte del ministro di intervenire sulla scuola, di intervenire in modo decisivo e in modo tempestivo anche, commissariando la scuola. Questo è quello che chiediamo. Volevano il commissariamento della scuola e gli ispettori al liceo e li avranno. È il ministro dell'istruzione Bianchi in una nota a garantire che da Viale Trastevere arriveranno forse già nelle prossime ore delegati per ricostruire la vicenda delle presunte molestie al Valentini Majorana di Castro Libero. Un annuncio accompagnato dalla vicinanza alla comunità scolastica. Ma finché non si vedrà un segnale concreto proseguirà l'occupazione della scuola. Al fianco dei ragazzi è anche una parte del corpo docente e i genitori. Vogliamo aiutare i ragazzi ad avere chiarezza perché questa chiarezza la vogliamo anche noi genitori. È giusto. Chi è che non sposerebbe una causa del genere? Certamente che i docenti sono con gli alunni. Però ci vogliono i fatti, ci vuole il tempo per fare le dovute verifiche. Nel pomeriggio è proprio il comitato dei genitori a incontrare i ragazzi dopo che una delegazione è stata accolta in presidenza in mattinata. Nel frattempo si solleva anche la politica. Dopo Boldrini sono le deputate del PD su spinta della parlamentare calabrese Bruno Bossio a fare un'interpellanza urgente al ministro chiedendo verità e giustizia sulla vicenda.